eccoci qua ben trovati io sono a bottegone alla casa del popolo a parlare di teatro con un amico regista eccolo umberto ponzio ciao grazie per avermi invitato ma è vero che l'amore è ceco l'amore può essere ceco dipende dipende sì l'amore ceco è il titolo di questa nostra ultima produzione la compagnia si chiama teatro di mezzanotte di pistoia abbiamo in programma questi due atti unici di ceco dell'autore russo anton cevo cevo chiaramente incentrati sul tema così dell'amore sono due atti unici però l'amore visto attraverso gli occhi graffianti del primo ceco con le sue produzioni sicuramente molto molto critiche nei confronti degli usi dei costumi della sua società per cui i due atti unici si intitolano il primo l'orso e il secondo una domanda di matrimonio faccio un po di spoiler dai allora l'orso è un personaggio rude che arriva nella casa di una vedova inconsolabile a pretendere la restituzione di un debito che il marito della vedova aveva contratto con lui da lì si sviluppa tutta si sviluppano degli avvenimenti dei corteggiamenti per cui la vedova inconsolabile in realtà poi sarà consolata ma la consolazione sarà un modo per restituire il debito non si sa ecco sì nella seconda nella seconda diciamo il secondo attunico nella seconda parte la domanda di matrimonio c'è un ragazzo che va a chiedere in sposa una una figlia che sta in casa con la famiglia e lui per dimostrare diciamo così si vanta delle sue proprietà e mentre parla con la figlia vantandosi delle sue proprietà nomina un praticello che la figlia invece dice che appartenga alla sua di famiglia per cui nasce una diciamo così il tema dell'amore e del corteggiamento si risolve in maniera brusca di fronte alla diciamo così alla pretesa di sapere di chi sia veramente questo praticello e quindi ecco la critica qual è la critica al costume del tempo perché insomma in realtà sono tutti orpelli tutte ma quello che conta è la roba che c'è all'interno e poi poi è la diciamo così è la ricchezza è quello sono i soldi quelli che con le proprietà poi l'amore eccetera sì vabbè ma insomma l'importante è lì che diventa cieco esatto è lì che diventa cieco senti che significa fare teatro ma senti io teatro lo faccio da tantissimi anni ormai ma fare teatro ormai è diventata quasi così diciamo una ragione ora non voglio esagerare ma insomma è un impegno notevole che però ti porta tante soddisfazioni per lo meno insomma a me me ne ha portate mi sono divertito mi diverto tuttora ho avuto anche dei riconoscimenti importanti a livello sempre amatoriale bisogna sempre avere la giusta la giusta ironia bisogna credere insomma non credersi arrivati o credere di essere chissà chi comunque ecco se si affronta con questo modo le soddisfazioni ci si tolgono senti siete social come compagnia sì non troppo non troppo abbiamo la pagina ma siamo una compagnia un po agi da questo punto di vista non siamo moderni ci mancano nuove leve ma la pagina c'è stimolateli stimolateli va bene senti quindi noi noi verremo a trovarti oltre che in giro per la toscana è anche sulla pagina social per stimolarvi va bene molto bravo così bene siamo costretti ad aggiornare esatto io ti dico grazie mille grazie a te e l'amore c'è